Special Olympics è un'organizzazione internazionale che si occupa di persone con disabilità intellettiva e attraverso lo sport mira ad una loro completa integrazione nell'ambito della società. Noi siamo in Italia dall'83 ma la nostra organizzazione è nata nel 68, quindi organizziamo periodicamente giochi locali, regionali e nazionali e partecipiamo ad eventi mondiali. L'ultimo giochi mondiali a Los Angeles è l'ultimo luglio-agosto dove abbiamo portato una squadra di 143 persone di cui 101 atleti. Prossimi eventi in programma? Abbiamo una serie di eventi su tutto il territorio nazionale chiamati Play the Games, quindi in tutte le regioni che coinvolgeranno i nostri atleti. Abbiamo circa 15.000 atleti e poi l'anno prossimo parteciperemo ai giochi mondiali invernali in Austria.